...del fenomeno mafioso, a fronte di questo noi scontiamo ogni giorno la fatica di combattere le mafie che sono insediate altrove, che sono forti e che la loro forza, la loro impunità è giusto, non ci può essere anche l'idea di coordinamento, lavoriamo tutti nel nostro lavorato e noi siamo fuori dagli schemi di governo